Professor Angelo Riccardi, una casa costruita sulla roccia, ma possiamo dire che questa casa o chiesa, ho detto avolutamente casa o chiesa perché prima di tutto con San Carlo Borromeo che ebbe una vita molto intensa, molto lavorativa, come dire, anche vicino a quelle che loro venivano chiamate nelle relazioni pastorali i fuochi, cioè le case, le famiglie. San Carlo in questa zona ha, come dire, ancora un nalone di uomo santo, ci sono anche leggende che danno l'idea dell'importanza che ha avuto quest'uomo. Vogliamo un attimo introdurre la sua figura sia da un punto di vista storico che religioso e spirituale? Certo. Allora, la mostra è stata curata in collaborazione dal Meeting di Rimini e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, quindi una collaborazione con la Diocese di Milano, proprio per i 400 anni della canonizzazione di San Carlo. Beh, la figura di San Carlo qui è proprio, come dire, centrata su due cose. Primo sulla sua conversione personale, perché a noi sembra strano che uno diventi santo così all'improvviso, non è vero, uno non diventa mai santo all'improvviso. È un cammino. È un cammino, ed è quello che ha percorso San Carlo. Carlo era un nobile, un nobile cadetto, che poi ha anche la possibilità di entrare in possesso di tutti i beni della famiglia Borromeo, proprio per la morte del fratello. Quindi quella tragedia che poteva significare il cambiamento della sua vita, nel senso di diventare il signore dei Borromei, insegna la svolta e lo fa diventare vescovo. Cosa che a quei tempi, come dire, siamo ai tempi del concilio di Trento, non risiedevano i vescovi nelle loro diogesi. E lui proprio sceglie di fare il vescovo per applicare anche i decreti del concilio di Trento. Allora la sua figura di vescovo diventa paradigmatica, esemplare, per tutta la diogesi di Milano, ma anche per tutto il nord Europa. Tutti vogliono avere i documenti che lui stesso scrive, lui stesso tiene con tutte le zone delle varie parrocchie e i vicariati della diogesi. Mi permette un'osservazione. La diogesi allora era molto vasta, macchia di leopardo, arrivava in Svizzera, scendeva, scendeva verso la pianura padana, eccetera. E sicuramente fece il giro di tre volte in tutte le parrocchie, ma non aveva a disposizione quelle che oggi chiameremmo le auto blu. Non mancherebbe altro. Proprio questa è la grandezza di San Carlo. Pensiamo che in 46 anni lui ha svolto questo immenso lavoro, nel senso che ha girato tutte le parrocchie della diogesi di Milano, che allora ne contava 800, adesso sono più di mille, ma le ha girate tutte e tre volte. Ma questo non è solo il girarle, ma il fatto che lui avesse un quadro di tutte le parrocchie tramite queste lettere che lui quotidianamente inviava e nell'arco di quattro giorni arrivavano allora, diciamo 400-500 anni fa, arrivavano da Milano fin su in Svizzera, fino alle ultime vicariate. E lui aveva 400 persone al suo servizio proprio per far pervenire queste lettere in cui vagliava, lo chiamava lo stato d'animo delle anime, cioè, vale a dire, sapeva di ogni parrocchia i problemi relativi ai preti di cui lui si è preso prima cura. Sappiamo che San Carlo è stato l'iniziatore dei seminari, quindi ha capito che la forma del gregge, lui diceva forma gregis, forma cleri, vuol dire che se formiamo il clero avremo anche una forma del gregge e quindi anche del popolo di Dio. Quindi la sua prima preoccupazione era proprio quella di preparare i nuovi sacerdoti. E nello stesso tempo, mensilmente, di far venire a Milano, pensate, tutti i mesi, radunava tutti i preti e controllava anche la presenza, e c'è proprio nel fascicolo delle lettere inviate al vicario di Asso, in cui controllava le assente. Chi era assente doveva giustificarlo e questo perché? Perché doveva formarlo. E i punti su cui lui doveva formare i suoi preti erano due sostanzialmente, la liturgia e la carità. Io vorrei soffermarmi un attimino sulla liturgia, perché ancora oggi noi andiamo avanti nell'architettura delle chiese, perché lui curava anche questi particolari e questo è anche nel libro di Asso. Per esempio, come dovevano essere gli altari. Esatto, due cose sostanzialmente. L'altare doveva essere separato dal popolo. Questo ci sembra un po' una contraddizione al giorno d'oggi, nel senso che col Concilio Vaticano II si è sottolineato di più l'assemblea e quindi abbiamo avvicinato l'altare al popolo. Invece, San Carlo, essendo in un periodo in cui c'era in mezzo la riforma protestante, in cui la chiesa protestante negava i due tipi di sacerdotio, sacerdotio ministeriale e sacerdotio del popolo, lui, proprio per sottolineare che è importante il sacerdotio ministeriale, ha voluto questa divisione fra l'altare e il popolo. Nello stesso tempo ha messo al centro l'eucaristia, il tabernacolo. Infatti lui dice a tutte le chiese che visita, dice l'altare deve avere il tabernacolo al centro, perché, vuol sottolineare anche qui, in contraposizione alla riforma protestante che negava la presenza reale di Gesù Cristo anche dopo l'eucaristia, dopo la messa, lui dice, no, Cristo è presente realmente nell'eucaristia. E proprio secondo questa idea farà nascere tutte quelle che noi conosciamo ancora oggi, la confraternità del Santissimo Sacramento, le processioni, quelle che si fa al Corpus Domini, oppure le stesse Quarantore, in aiuto con i Barnabiti, le diffonde in tutta la sua diogesi. Proprio per sottolineare questa realtà della presenza di Cristo. La centralità del Signore. Perfetto. Ecco, adesso vogliamo ricordare dove, come e quando è possibile visitare questa mostra. Allora, la mostra è esposta qui ad Asso in questa settimana, quindi dal 20 al 27 fino a domenica sera. È possibile visitarla qui nella chiesa del Santo Crucifisso che si trova adiecente alla parrocchiale di Asso. e se fossero anche dei gruppi, è possibile anche visitarla guidata in modo tale da gustarla maggiormente. E scoprire tanti aspetti segreti, per il più, di questa vita, di questo uomo che era molto interessante. Grazie. La ringraziamo e cogliamo l'occasione per un'ultima velocissima riflessione. San Carlo è ricordato anche come, oltre a un grande vescovo, anche un grande viaggiatore, per cui una persona che ha portato spesso la chiesa, o meglio, ha risollevato le sorti di molte parrocchie, vero? Senta altro, ha cambiato la vita della chiesa non solo ambrosiana, tanto è vero che noi diciamo che la chiesa di Milano è la chiesa di Sant'Ambrogio e di San Carlo. I suoi effetti vanno avanti ancora oggi. Cioè, secondo me, la struttura portante della chiesa, non solo ambrosiana, ma anche universale, ha avuto l'influsso di San Carlo. Anche i pastori stessi, no? Lui è l'immagine del vescovo, ancora oggi si rifà all'idea di San Carlo. Allora, invitandovi a venire a vedere la mostra, potete poi gustare anche un breve filmato di circa cinque minuti in cui viene riportata la preghiera che San Carlo ha recitato in Duomo nel venerdì santo del 1584, l'anno della sua morte, proprio pochi mesi prima della sua morte, in cui prega non solo per il Papa e la chiesa, ma per il mondo intero e soprattutto anche per i governanti, perché secondo lui è importante che la chiesa incida anche a livello sociale. E se vedrete la mostra, vedete come il cristianesimo, lui sosteneva le scuole di dottrina cattolica, quindi attraverso questo arrivava a tutti, ai bambini, addirittura le varie categorie, scrive dei libretti per ogni categoria, per i padri di famiglia, per i notai, per gli avvocati, per i magistrati. L'importante è che dentro nella società arrivi quel dinamismo che lui aveva incontrato e che gli aveva permesso di perdere la sua vita nella carità, perché poi lui, vedrete anche nel testamento, ha dato tutte le sue ricchezze, le sue immense ricchezze della famiglia per l'ospedale maggiore a cui la famiglia Borromeo era molto legata e quindi lascerà tutti i suoi beni alla Cagranda di Milano. Grazie a tutti. Signore, noi non siamo degli occhi al cielo e tantomeno di fissarli nel Re dei Cieli, il Signore e Salvatore nostro Gesù, che tante volte abbiamo tradito, oltraggiato e abbandonato. Egli si era unito alle nostre anime come uno sposo, ma noi gli siamo stati infedeli, non abbiamo ascoltato la sua voce per seguire le nostre passioni e ci siamo perduti, inseguendo delle creature. Con quali occhi potremo guardare ora uno sposo così dolce e così caro, contro il quale tante volte abbiamo peccato? Noi, oh Padre, ne siamo indegni, ma tu guarda il volto del tuo Cristo, le sue piaghe, i suoi lividi, il suo sangue, il suo corpo straziato in tutte le sue membra. Per i suoi meriti e le sue preghiere, guarda benevolo il Santo Padre, il Papa, il Pastore di tutta la Chiesa e concedigli di essere utile alle sue pecorelle, con la parola e con l'esempio, per giungere con tutto il suo gregge alla vita eterna. Guarda dal cielo e vedi la tua vigna, la Santa Chiesa piantata, incrementata, resa rigogliosa dal sangue preziosissimo del tuo figlio. Assistila sempre e tienila unita a te, perché giunga a diventare una cosa sola con la Chiesa trionfante. Guarda tutti i vescovi, i sacerdoti, tutti i membri del clero, perché amino i loro gregi, come Cristo ha amato noi. e siano sempre pronti a dare la vita per la difesa delle anime loro affidate. Memori della loro vocazione si considerino ministri e dispensatori dei tuoi misteri. Guarda tutti i governanti, perché ricordino che di ogni loro decisione dovranno rendere ragione a te. Guarda i magistrati e insegna a loro che nessuno può resistere alla tua volontà e sottrarsi al tuo giudizio, che presso di te non c'è preferenza di persone, ma tu sei giusto nel retribuire a ciascuno secondo il bene o il male da lui operato. Guarda anche gli infedeli e i pagani. Toglili dalle tenebre dell'ignoranza e rigenerali nel sangue del tuo figlio. Guarda tutti i peccatori con lo sguardo della tua misericordia. Non ricordare ciò che hanno commesso di male, ma vedi la tua immagine e il sangue del tuo figlio, con il quale sono stati lavati e redenti, che ritornino dalle loro strade sbagliate e cerchino te, autore della vita e di tutti i beni. Guarda finalmente nel volto, nelle piaghe, nel sangue del tuo Cristo, tutti gli uomini di ogni razza e condizione, perché per tutti e per ciascuno questo sangue è stato sparso ed essi non lasciano mai di glorificare il tuo nome, di cantare la tua gloria, perché si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Amen.